Abbiamo deciso di affrontare l'emergenza freddo destinando alle organizzazioni che da sempre lavorano sul campo coperte e sacchi a pelo per le persone senza fissa dimora, 7.500 in questa città di cui 3.000 dormono per strada persone a cui l'aggiunta raggi il Comune di Roma non ha saputo dare una risposta. Il PD apre i propri circoli, i propri territori, il proprio cuore a tutte le persone che intendono dare una mano sapendo che donare una coperta può fare molto. Abbiamo aperto da un'ora la nostra sede e già queste sono le coperze che abbiamo ricevuto dai cittadini non necessariamente iscritti al PD ma a tutti coloro che vogliono partecipare con noi a dare un segnale di cambiamento e di aiuto a molte persone che in questo momento ne hanno particolarmente bisogno. Questo perché il Partito Democratico non è soltanto critica, basta anche essere azione sul territorio e aiuto per i bisognosi. Di fronte all'emergenza fetto, la raggi è assente e noi abbiamo deciso di fare tutti insieme un passo avanti per dimostrare che tutti noi possiamo fare qualcosa di utile e di importante. Basta poco, il PD di Roma si mette a servizio di tutti i romani per fronteggiare insieme questa emergenza.